ciao raga vi faccio un breve regalo oggi non so di che cazzo parlare in questo video premietto però sto guardando brighton everton sono solo 0 a 0 così un video giusto pulparli shon daish una renature che mi ispira classico renature britannico di quelli cazzosi sono solo 0 a 0 leggera supremazia del brighton più che altro calci d'angolo oddio c'è stata un'occasione sono uscita sbagliata di pickford però uscita a cazzo di pickford buonanotte vediamo un po fermato certo che l'everton non va molto per il sottilo oddio c'è stato un salvataggio decisivo di dunk per il brighton altrimenti calvert lewin avrebbe colpito di testa quasi a botta sicura siamo sullo 0 a 0 intanto ne approfitto per fare due chiacchiere come ben sapete a me non commento conferenze stampa l'ho vista vi confesso che mi sono addormentato e alla fine io penso sia inutile oddio con il rispetto per i colleghi che comunque devo scrivere qualcosa sulla carta stampata però se devo ragionare da youtuber voi lo sapete che a me non me ne frega un bene amato cazzo delle conferenze stampa di quel che si dice a meno di scleri e c'è stato un mezzo scatto con un giornalista di allegri merito alle obiettivi minimi massimi oramai a barretta si dice a come sanda sandiana parli tradotto tradotto parla chiunque chiunque dalito alla bocca ho appena guardato la serie b tra l'altro solito bello spettacolo ho visto la cremonese che in dieci ha rimontato due gol al palermo bellissima la serie b ragazzi il bari che ha perso in casa su tirolo il catanzaro che è tornato alla vittoria in casa del cittadella la sandoria ieri vinse a cosenza che vi avevo detto sandoriani che vi avevo detto che la sandoria avrebbe vinto a cosenza sapete che c'è io ho vinto una decina di volte alle scommesse da quando esista quando c'erano ancora nelle lire la prima volta che ho vinto tra l'altro giocai anche tre partite nba ed è vero peccato non riesco a seguirli ma facevo tutt'altro mestiere prima all'epoca ero ero operaio ai tempi dell'nba e il sabato si guardava nba action su sky fu l'anno della finale fra i los angeles lakers cioè sì dai los angeles lakers di kobe e scec e philadelphia 76ers di allen ai persone piccolino ma era un po tipo steve curry di golden state adesso steve curry era molto forte e trascinò philadelphia quella finale playoff però i lakers erano troppo forti era il 2001 mi ricordo che giocai o due o tre partite di nba e due partite di liga all'epoca si giocava la 10 mila lire come importo minimo era il 2001 era la pasquetta nel 2001 se non ricordo male e giocai due partite di liga intanto ancora nulla giocai due partite di liga spagnola che già seguivo allora all'epoca c'era il discorso tele più e stream delle più e stream all'epoca ricordo che tele più dava la liga della bundes la liga la liga la ligan la premier league la liga la ligan dava e mentre la bundes le redivisie e i campionati sudamericani li davano su stream ricordo che su stream c'era massimo tecca insomma erano più o meno quelli di tele monte carlo poi la ricordate la suddivisione allora c'erano le strisciate come le chiamano con disprezzo dalle parti di napoli e di roma milan inter juve che erano le loro partite in casa erano su tele più mentre roma quell'anno il napoli che poi retrocesse fiorentina parma chi altro c'è lazio erano tutte su stream e mi piaceva già da allora guardare il calcio internazionale l'epoca facevo l'operaio alle 4 staccavo alle 4 staccavo mi riposavo un'oretta uscivo e la sera guardavo un po' di sport devo dire intanto punizione altissima devo dire che sapete forse all'epoca era un po' meglio perché c'erano un po' meno partite ricordo che la di premier davano una partita il sabato e una la domenica se non ricordo male c'è prima delle più poi sky dalla stagione 99 2000 più o meno la stagione 99 la champions league dava stream ricordo la champions league e adesso guardiamoci sto brighton che 0 a 0 si vediamo prova a costruire niente pick for spazza gioca la vecchia maniera inglese l'everton palla fuori e vi dirò spesso il brighton un po' impreparato sulle seconde palle ma non so al momento sono ancora 0 a 0 dal poco scendo a lavorare e niente ho guardato la serie b ho visto il casino che è successo in ferrarpi ascoli dove la ferrarpi aveva pareggiato al 94esimo gol che poi è stato annullato dal var ma prima era stato espulso castori allenatore dell'ascolio per proteste l'ascolio ha poi vinto e a proposito di castori sì è chiaro mettiamola così c'è un famoso giornalista di fede interista di sport italia che a me fa sinceramente pena il quale ha parlato di un allenatore a caso come di un castori che ce l'ha fatto calcio da dinosauri come come se la sua inter giocassi diversamente la sua intera semplicemente interpreti molto migliori gioca praticamente lo stesso calcio con interpreti migliori quindi passaggi più precisi sicurezza nei propri metri esperienza anche ma è un allenatore sul quale gettavano merda fino a un anno fa fino a un annetto fa di questi tempi gettavano merda su quell'allenatore lui lui compreso ma non mi voglio stare a ripete cioè simone e ha paragonato un altro allenatore a dicendo che è un castori che ce l'ha fatta allora fabrizio castori è un allenatore che in carriera ha ottenuto dieci promozioni dalla terza categoria fino a quella col carpi dalla b alla 10 promozioni ottenuto fabrizio castori quindi questo è merito incompetente perché così vuole essere chiamato attenzione l'everton si è mangiato un gol l'everton ragazzi mica da ridere ma una bella azione aveva fatto ancora calvert lui però però c'era fuori gioco stavo dicendo fabrizio castori ha ottenuto dieci promozioni di cui otto vincendo il campionato o almeno così c'era riportato le statistiche quella di carpi la ricordo sicuro ma soprattutto allenato spesso in provincia e forse non ha santi paradiso nella comunicazione che hanno portato ore no perché ci sono allenatori che hanno malapena vinto una coppa italia di serie c e sembrano dio sceso in terra che è capito non per me non per attaccare questi allenatori date finito il primo tempo brighton everton 0 a proposito a proposito perché ci sono allenatori bravi molto bravi che non vedo l'ora se è vero di vedere a barcellona che hanno vinto un decimo di quello che ha vinto castori in carriera quindi è vabbè dai ma non è per quello io sinceramente non voglio offenderne castori e ci mancherebbe altro né roberto de zerbi né alcun allenatore che poi detto da lui che sbavava per murigno vabbè ma ma di che cazzo stiamo qua ma vi rendete conto che gente c'è in giro a parlare di calcio ma davvero io dovrò dare ragione un ex ragiatore del barretta ma parlano proprio tutti di calcio devo proprio dare ragione davvero senza tirare per forza in ballo questo questo e quest'altro se quell'allenatore è un castori che ce l'ha fatta io non uso la stessa metafora per questo signor giornalista e a meno del culo a merode solo il culo che un giornalista bravissimo un galantuomo come michele salomone che ha dedicato la praticamente la sua vita a te le norma e al bari sia rimasto in ambito locale questo qui è lì a cianciare di castori allegri eccetera eccetera ecco questo è uno dei tanti dalle cui labbra pendete non per non per essere io vado giù anzi la nostra prima la spesa e poi vado a far finta di lavorare due tre ore oggi è sabato che la piglio molto più comoda finiamo di guardare il brighton poi c'è un bel bayern lipsia sono molto curioso di guardare stasera c'è arsenal newcastle mi sa che l'empoli ha vinto a sassuolo non vorrei dire una fesseria mi sa che l'empoli ha vinto a sassuolo fammi vedere su gol mi sa che l'empoli ha vinto a sassuolo c'è giornalisti fiori giornalisti come michele salomone confinati e chi è di bari lo sa che michele salomone ha vinto l'empoli no non è ancora finita ha segnato ancora un bayern young gangellieri e luperto era avanti 3 a 1 l'empoli è sassuolo a no ora porta 2 a 2 perché perché adesso mi porta 2 a 2 basta che vi decidi ma è 2 a 2 o 3 a 2 cazzo di sito pure qua a no adesso c'è stato il gol dell'empoli e non sappiamo di chi questa è una vittoria che vale 6 punti questi sono 6 punti non 3 per l'empoli fammi spegnere qui questi sono 6 punti per l'empoli non 3 e comunque quando penso a giornalisti che seguivano le milanesi mi viene in mente Franco Zuccavà bravissimo che è scomparso da poco e proprio oggi mentre ci parlavo su facebook sui siti e sui profili amacordi calcistici mi sono imbattuto nel derby dell'89 90 inter milan a parte i calciatori Matteo Svanbaster, Klinsmann, Rijkaard, Donadoni, Riccardo Ferri, Zenga ma che goduria le interviste a Pellegrini, a Berlusconi ricordo i servizi di Franco Zuccavà erano godibilissimi con quella sottile ma signorile ironia di cui solo lui era capace la domenica sportiva dei vecchi tempi adesso siamo in mano a 4 scimmie urlatrici che si improvvisano allenatori che danno in escandescenza danno in vani in estasimistica e beh c'è chi commenta c'è chi disquisisce pur non capendoci un cazzo chi pur non capendoci un cazzo segue la squadra prima in classifica in Serie A e chi come Michele Salomone a Bari è rimasto lì in quella dimensione un professionista esemplare esemplare ma ce ne sono tanti a livello locale penso ad Alfredo Nolasco penso a compiato Mario Colamartino parlo della mia regione naturalmente professionisti serissimi e poi ti vedi sti pagliacci a livello nazionale capito? Castori tu non sei degno neanche di nominarlo Castori per la carriera che ha fatto non dico l'altro non dico l'altro tu non sei degno neanche di nominarlo Castori per la carriera che ha fatto vabbè ciao c'è molto buo